Il giudice di Milano si è rivolto alla Corte Costituzionale, attende un parere, il giudizio dovrebbe tecnicamente arrivare non prima dell'anno, della fine dell'anno e in base al giudizio si possono aprire le prospettive molto interessanti. Qualora la consulta ritenga incostituzionale la prima parte dell'articolo, in pratica verosimilmente il capato sarà assolto anche per quella parte, ma poi in verità il legislatore, il prossimo legislatore, quello che sarà eletto a breve, è nelle condizioni di dover prendere in mano l'argomento e potrebbe anche legiferare in tal senso. Io spero che possa legiferare affinché anche in Italia arrivi il suicidio assistito e l'eutanasia. È un passo, nel senso che l'ottimismo c'è perché il sentire dell'opinione pubblica in confronto di questo argomento è molto cambiato in questi decenni. Molti paesi occidentali hanno già legiferato nel senso positivo, almeno per me, cioè dotando il paese, i loro paesi, di una legislazione che permette il suicidio assistito e l'eutanasia. La speranza è che ci sia questo adeguamento, anche perché c'è molta materia del diritto europeo, nel senso europeo e internazionale, paesi come Canada, Australia, lo Stato della California, ovviamente senza citare Olanda, Belgio in Europa. Grazie. Grazie.